Ciao a tutti, io mi chiamo Federico Slenghi e sono uno degli insegnanti di Notti sul Ghiaccio. Ho incominciato a pattinare all'età di 6 anni e mezzo, ora ne ho 29 e di conseguenza pattino veramente da tanto tempo. Nella mia carriera ho ottenuto degli ottimi risultati, sono stato un atleta della nazionale italiana per alcuni anni, nel 2004 ho vinto i campionati italiani junior e ho ottenuto numerosi ottimi piazzamenti in importanti competizioni internazionali. Detto ciò, non sono solo un pattinatore, faccio anche l'architetto, di conseguenza architettura da una parte e ghiaccio dall'altro. Questa per me è la terza edizione di Notti sul Ghiaccio, ho già partecipato a entrambe le prime edizioni e ora siamo alla terza. Quest'anno è veramente una bomba, di solito io mi devo sforzare di spronare le mie partner all'inizio per indicare la retta via e all'inizio posso sembrare un po' scontroso. Quest'anno invece mi devo impegnare veramente tanto a trattenerla perché Chiara Mastalli è veramente un cavallo da corsa, quindi devo veramente sforzarmi di trattenerla ma secondo me vedrete cose bellissime. Ciao a tutti!